salve a tutti e bentornati sul mio canale concludiamo oggi la mini ma proprio mini serie di due episodi sulla modellazione del nostro robot low poly nello specifico oggi vedremo il vero e proprio sistema particellare accennato nello scorso episodio come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e di commentare e se vi è piaciuto il tutorial lasciate un bel like buona visione ciao 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 ciao